ciao questo è un nuovo video che di solito che faccio sui film che riesco a guardare che mi sono andato a recuperare io questo film che si chiama io capitano che anche se è uscito a settembre del 2023 che come data uscita qua in italia è il 7 settembre si prende il 2023 che anche anche se magari come genere può toccare magari il drammatico l'ho voluto tipo andarmelo lo stesso marea a guardare che che magari come regia magari di questo film è di matteo garone e due anche qui quelle due ore 121 minuti quasi di film che ho visto che marei come come film e marei ho visto che marei ci ci poteva marei anche stare che come si dice che marei e marei essendo marei la regia era di questo matteo garone però marei come trama ho visto che ci marei l'ho voluto marei avevo visto che marei mi poteva marei anche piacere piacere marei come genere l'ho voluto magari andarmelo a vedere che parla più che altro marei racconta marei la storia di questi due giovani che si chiamano Seido e Moussa che partono da Dakar che si trova marei in Senegal che devono affrontare un lungo viaggio per raggiungere l'Europa e la loro marei viaggio marei diventa marei una specie di una specie marei di come si dice odissea che li porta ad attraversare marei anche il deserto e molte marei difficoltà marei durante marei il viaggio e magari anche i pericoli marei che ci possono essere magari anche sul mare e anche magari certe cose che possono marei guardare magari sul genere marei anche umano però che più che altro è la storia di questi due ragazzi che di questi due ragazzi del Senegal che che parla più che altro marei che parla più che altro marei dello viaggio che amare anche se sono riuscito marei a recuperarlo marei marei un po' tardi marei dalla sua data marei d'uscita sono ho voluto tipo andarmelo a guardare lo stesso che che magari che magari che magari come genere che magari che parla magari di questi più che altro di questi due ragazzi magari come si dice che di questi due ragazzi del Senegal che partono magari dal loro paese per affrontare affrontare marei questo viaggio marei non è magari un film che può prendere magari un po' non può magari prendere certa gente però l'ho voluto tipo andarmelo magari lo stesso magari a recuperare che come come film e come film e magari certe scene marei possono essere magari un po' un po' magari anche rude un po' che magari durante il viaggio no? durante il viaggio di questi due ragazzi magari ci possono essere magari scene marei non belle ma magari da da vedere però a me magari in particolare magari e 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 l'ultimo è piaciuto che ho visto che magari su certi cinema lo si può magari trovare e nelle sale che magari anche se non vai magari a guardarlo magari al cinema ho visto che si può magari recuperare magari su qualche piattaforma se magari qualcuno ha qualche abbonamento su qualche piattaforma lo si può andare lo stesso magari a recuperarselo magari nel guardarlo ma come film essendo un re uno che come genere marei drammatico marei ci può mai anche anche stare come film che magari come al solito marei lascio sempre marei descrizione marei il video trailer il cast degli attori che hanno degli attori che hanno partecipato e marei anche altre marei a informazioni sempre su questo mares su questo mai film che marea la casa di produzione si per era il cinema che ma reso qualche sempre mares su qualche sempre applicazioni di della mara e della rai o anche altre marei piattaforme marello si può lo stesso marei recuperarlo ma è come come film perché come come si dice più come si è sviluppato morale il film e le scene così marei ho visto che ci poterà marea è bello marei come film come hanno girato marei anche certe marei certe marei certe marei certe scene e niente che quello che magari potevo dire su questo marei su questo su questo film marei l'ho già detta a massimo marei ci vediamo sicuramente marei più avanti con i miei soliti video che porto marei sul mio canale e magari lascio qualche informazione in più in più marei sempre su questo film sotto marei in descrizione e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo magari più avanti sempre sul mio canale e niente per adesso vi saluto ciao